non ditemi di no perché non ci credo tutti lo abbiamo fatto almeno una volta di andare su google maps a cercare il tetto della nostra casa la via o comunque un luogo a noi particolarmente familiare ecco ma avete mai fatto questa cosa per non so magari valutare di installare il fotovoltaico ne parliamo ne parliamo con fabio stefanini benvenuto ciao e con giorgio arcangeli buonasera ciao con voi scopriamo quella che la realtà di ottobo partiamo da lì ottobo è un'azienda che nasce in norvegia oslo nel 2016 e che ha l'obiettivo un po quello di facilitare come dicevi giustamente il passaggio al fotovoltaico residenziale quindi un focus molto specifico sul sul cliente privato lo facciamo con un'esperienza estremamente digitale che vi racconterò un po più nel dettaglio la cosa importante è che dopo aver validato questo modello e quest'idea sul mercato che effettivamente di sole non ne ha tantissimo come quello norvegese la decisione è stata quella di espandere ottobo su altri paesi ad oggi nel 2023 siamo presenti in 13 mercati europei quindi di fatto tutti i mercati più importanti per l'opportunità del fotovoltaico e nel 2021 abbiamo lanciato anche in italia sì dimmi allora poi tra l'altro il questo sviluppo è stato molto veloce perché lì è partito nel 2016 progetto però poi in italia ha prodato con un certo vigore con un certo entusiasmo non tanto tempo fa nel 2020 sì siamo partiti nel sì nel 2021 in realtà all'inizio dell'anno è una realtà che è cresciuta molto velocemente anche un po forte di un mercato che di potenziale ha tantissimo diciamo che tra tutti i mercati europei a livello di radiazione solare l'italia è quella che ne beneficia forse di più soprattutto se guardiamo al sud dell'italia e ancora ad oggi nonostante di lavoro se ne sia stato fatto ne sia stato fatto tanto e nel 2022 abbiamo visto una crescita addirittura del 180 per cento ad oggi solo un tetto su dieci potenziali dove potremmo installare fotovoltaico a l'impianto installato questo nonostante il potenziale per un investimento nel fotovoltaico sia altissimo consideriamo molto semplicemente che un investimento sul fotovoltaico residenziale si recupera in cinque anni forse addirittura 4 se guardiamo al sud e questo equivale a dire che stiamo parlando di un investimento che ha un rendimento certo del 20 per cento all'anno quindi molto molto significativo parlando nello specifico di quello che il modello di business invece cosa possiamo allora per il cliente l'esperienza come dicevo è cerchiamo di semplificare il più possibile questo passaggio no e come lo facciamo lo facciamo con un'esperienza totalmente digitale innanzitutto quindi il cliente può accedere al sito ottobo punto it inserisci il proprio indirizzo di casa quindi identifica come dicevi il proprio tetto e da lì rispondendo a qualche domanda sul tipo di esigenze che ha in termini di consumi e impianto che vuole installare riceve una quotazione nel giro di due minuti quindi tempi estremamente veloci tempi velocissimi digitali quindi senza bisogno di muoversi andare a cercare a fare preventivi in giro e se è interessato a questo preventivo nel giro di 24 ore viene contattato da un nostro esperto di fotovoltaico che chiaramente va a raffinare un attimo e a fornire tutte quante le informazioni che sono necessarie per concludere il contratto e firma digitalmente quindi di nuovo senza bisogno di muoversi da casa ecco questa esperienza che in realtà è molto semplice e molto veloce dietro nel background a una serie di attività che chiaramente vengono fatte per renderlo possibile in primis un algoritmo che va a valutare quello che è il potenziale del tetto che varia chiaramente a seconda della latitudine della casa della pendenza del tipo di tetto che di cui stiamo parlando quindi valuta il potenziale in termini di produzione e quindi anche di saving in termini di costi energetici ma anche non da meno importante il potenziale di riduzione in termini di co2 per l'ambiente che questo impianto che mediamente ha una durata tra i 20 e 30 anni una vita utile quindi piuttosto lunga potrà portare al cliente ma anche all'ambiente circostante no quindi questo è un tema molto importante parlando proprio di anni tra l'altro con garanzia 10 anni sull'installazione esatto trovo forse anche un po perché c'è per entrare in un mercato nuovo no quello che si vuole fare è garantire al cliente finale una prestazione che vada nel tempo quindi contro i due anni minimi che sono dati per legge che di fatto i nostri competitor offrono sul mercato abbiamo deciso di offrire 10 anni questi 10 anni ci tengo a specificarlo perché c'è molta confusione sono di garanzia sull'installazione quindi vanno ad aggiungersi a quelle che sono le garanzie di prodotto che possono variare a seconda dei brand che vengono installati quindi assolutamente sì ci teniamo è un punto estremamente importante per noi come lo è tutta l'esperienza la soddisfazione del cliente di cui ci parlerà e arriveremo a parlare proprio di quanto voi siete attenti proprio su quelle che sono le esigenze del cliente in primis ma anche quella che è l'esperienza del cliente quindi anche subito dopo l'installazione e l'utilizzo del insomma di questo fotovoltaico parliamo proprio di tutto questo ma anche di molto altro sì esatto come come la come lavoriamo a livello operativo come accennava fabio noi abbiamo una rete di installatori più di 200 che lavorano su tutto il territorio nazionale e per lavorare con ottovo un installatore deve registrare la sua struttura di costo tramite un modello un modello che registra tutte le informazioni a livello molto capillare e questi modelli di costo sono proprio quelli che permettono in una fase di preventivo del cliente di creare una vera e propria gara virtuale che assicura a ogni cliente di ricevere il preventivo al prezzo più basso di fatto per quello specifico progetto non solo il prezzo è un elemento importante dell'offerta facciamo al cliente ma installatori diversi possono avere anche disponibilità diverse quindi riusciamo a garantire in ogni momento che l'impianto venga fatto nei tempi più brevi possibili perché magari un installatore disponibile fra un mese un installatore fra tre mesi non solo online il discorso tempi ottimizzati ma assolutamente l'esperienza reale assolutamente anche perché il cliente che è interessato l'impianto fotovoltaico ovviamente non vede l'ora di averlo sul tetto iniziare effettivamente a risparmiare una volta che si sceglie poi io sono la prima di poterlo vedere all'opera esatto e c'è tutto poi un processo anche di controllo della qualità assolutamente un aspetto importante sì prezzo e velocità sono fondamentali altrettanto importante la qualità del servizio ovviamente che che offriamo e a noi piace definirci maniaci della dell'esperienza del cliente penso che un qualcosa che lo può testimoniare alla fine alla fine dell'installazione di ogni pianto noi chiamiamo personalmente il cliente per raccontarci come è andata l'esperienza innanzitutto sia soddisfatto di come è andata l'esperienza sia con ottovo che con la ditta installatrice e per sapere veramente se c'è qualsiasi tipo di spunto di miglioramento che può darci il cliente non nascondo che tante innovazioni che abbiamo fatto nel corso di questi anni sono state anche basate a volte anche sulla sull'input di questi clienti e che a mano a mano ci ha permesso veramente di migliorare le nostre operations a un livello devo dire veramente molto soddisfacente ad oggi il 90% e più dei clienti in questa chiamata si dicono estremamente soddisfatti ed è un qualcosa che poi si riflette anche sulle piattaforme di recensioni online abbiamo un 4.6 di cui andiamo molto orgogliosi su google e traspilot e sono effettivamente i punteggi più alti che esistono nel mercato del fotovoltaico residenziale chiaramente il cliente è in contatto con noi sempre durante l'esecuzione del progetto quindi non solo a valle dell'installazione ma può contattarci in qualsiasi momento con una mail a corrispondiamo in tempi estremamente rapidi o volte può anche prenotare una chiamata all'interno del giorno stesso. Poi in una battuta veloce c'è anche un altro aspetto che è quello del network di installatori selezionati e anche il network dei distributori. Corretto io penso che un altro elemento veramente che può promettere il cliente in condizioni di tranquillità nel comprare un impianto fotovoltaico con Otovo è quello che si affida non a una singola azienda installatrice ma a tutto il network di Otovo siamo noi come Otovo che garantiamo per quell'impianto fotovoltaico e quindi un'azienda installatrice che magari opera anche bene fra tre anni può decidere di fare altro può uscire dal mercato noi saremo ancora lì manderemo un altro installatore se quel cliente ha bisogno a fare una riparazione una manutenzione qualsiasi cosa di cui il cliente ha bisogno per quei 20 30 anni di cui parlava Fabio noi ci siamo e saremo qui per supportarlo. Quindi anche la chiamata che arriva dopo non è una chiamata proforma ma è un vero e proprio strumento per migliorare sempre di più il servizio che offrite. Assolutamente. Allora parliamo di anche operatività perché quando si parla di decreti legislativi a volte ci mettiamo per partire così nel dubbio le mani nei capelli e poi cerchiamo di affrontare il resto. Parliamone proprio sul fronte fotovoltaico. Si recentemente quello che probabilmente tutti avranno avranno visto perché era sulle testate principali testate giornalistiche tutta la discussione attorno al super bonus il governo ha deciso repentinamente di cancellare la cessione del credito. Quello che è importante sottolineare però è che non ha cancellato il bonus in sé quindi il bonus 50% sull'installazione del fotovoltaico ancora c'è semplicemente va in detrazione dalla dichiarazione dei redditi nei successivi dieci anni. Questo ci piace sottolinearlo è l'incentivo più generoso che abbiamo su tutti quanti i 13 paesi europei. Quindi ci lamentiamo sempre molto però dobbiamo dire che su questo il governo italiano sta facendo un buon lavoro nonostante questa questa cancellazione. Ecco paradossalmente noi col centro studio tovo quindi dove monitoriamo un attimo quello che succede sul mercato abbiamo monitorato anche quello che succedeva ai prezzi dell'installazione del fotovoltaico a valle di questo di questa cancellazione della cessione dei crediti e la notizia abbastanza curiosa anche se ce lo potevamo aspettare però non è nella mente del potenziale cliente è che i prezzi chiaramente sono calati in maniera molto significativa da un lato perché la cessione del credito aveva un costo perché le aziende dovevano cederlo alle banche circa un 20% del costo complessivo e che quindi andava a aumentare il prezzo e dall'altro lato perché il super bonus lo scorso anno aveva gonfiato la domanda e quindi aveva alzato i prezzi del mercato. Ecco questa questa cancellazione della cessione dei crediti ha rapidamente riportato i prezzi a dei livelli più normali quindi una diminuzione del 30 per cento quindi anche se effettivamente il cliente in questo momento deve farsi carico del pagamento dell'intero importo lo fa su un importo decisamente più basso rispetto a prima quindi un 30 per cento più basso e ci aspettiamo ulteriori riduzioni 30 per cento in meno non è assolutamente poco no soprattutto se guardiamo un orizzonte temporale di qualche mese no quindi il mercato è completamente cambiato i tempi di installazione sono velocizzati quindi in questo momento il cliente ha la possibilità veramente di accedere a un investimento che ancora più vantaggioso rispetto a prima perché di fatto nonostante lo vada a detrarre in dieci anni però accede a un prezzo molto molto più conveniente quindi questo è davvero importante siete stati chiarissimi ho imparato un sacco di cose anche grazie a voi ringrazio quindi fabio stefanini di essere stato con noi grazie anche a giorgio arcangeli grazie 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 di averci raccontato questa realtà in continua crescita che è ottovo grazie ma quante cose si imparano qui su start up tantissime lo sapete che esiste un nuovo modo di interpretare il digitale ve lo dico io la risposta è sì allora andiamo a conoscere quella che è una realtà nata nel 2020 con noi abbiamo mirko pugliafitto benvenuto ciao katia e con te parliamo di digitiamo chi siete e che cosa fate come dicevi tu siamo un'azienda una start up è nata nel 2020 e ci siamo lanciati in questa avventura di provare a portare uno strumento nuovo che si chiama intelligenza artificiale proprio nelle aziende quindi dall'inizio ci siamo chiesti ma può davvero essere così rivoluzionaria come crediamo noi tecnici e può davvero in realtà portare un impatto nella vita di tutti i giorni e nelle aziende come le conosciamo e stiamo cercando di dare questa questa risposta insieme agli imprenditori con quale che stanno credendo in questo progetto da quale esigenze siete partiti allora in realtà siamo partiti da delle esigenze che abbiamo sentito molto molto vive all'epoca e quindi quando siamo partiti era appunto il 2020 e si iniziava a sentire parlare di sostenibilità di sprechi di di questo tipo di di tematiche molto molto vive molto importanti per il nostro pianeta e da lì abbiamo iniziato grazie ai primi contatti con dei delle società retail del mercato a focalizzarci su un grosso problema che è l'ottimizzazione del magazzino sulla quale abbiamo insomma rilasciato degli algoritmi proprio per di intelligenza artificiale proprio per ottimizzare questa parte e abbiamo avuto tutta una serie di interessanti clienti che hanno creduto in noi come cito ad esempio carrefour con quale abbiamo fatto un interessante intervento all'ei week che è la settimana dell'intelligenza artificiale che si è che ogni anno diciamo in italia racconta un po di storie su quest'ambito proprio nell'ottica di dire riusciamo a utilizzare il dato che un cliente grosso come come carrefour sta continuando a raccogliere proprio per non solo risolvere il problema dello spreco quindi arrivare dopo la filiera quindi a capire come diciamo ridistribuire quello che non viene utilizzato e che sta andando in scadenza ma proprio nel anticipare il problema quindi comprare meglio comprare più adeguato all'esigenza del consumatore quindi senza che il consumatore non trovi sullo scaffale quello che ha bisogno ma diciamo cercando anche di evitare quindi creando tutta una serie di vantaggi da quelli più piccoli e diciamo di zona a quelli che invece interessano tutto il pianeta perché poi ricordiamo ottimizzare vuol dire per un'azienda anche avere meno costi avere quindi un margine di guadagno più alto e quindi insomma questo per quanto riguarda la realtà aziendale ma poi quando si parla anche di ottimizzazione si parla anche di evitare appunto sprechi e questo va a beneficio di tutto il pianeta quindi quindi voi vi rivolgete questo progetto si rivolge a chi chi ne può usufruire noi siamo dei consulenti possiamo dire così quindi degli esperti di materia di uno strumento innovativo forte potente come l'intelligenza artificiale che risolve tutta una serie di problematiche ma non siamo come dico di solito competenti sul dominio specifico quindi quello che le aziende a cui ci rivolgiamo sono aziende medie aziende o grandi aziende italiane che diciamo sentono di poter beneficiare da uno strumento così così forte se non hanno questa 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 sensazione siamo noi stessi che cerchiamo di raccontargliela in tutti gli eventi che facciamo nella formazione nelle pillole formative che portiamo che portiamo anche nei vari podcast e quello che noi facciamo è fondamentalmente raccontare un po dove si può migliorare e quello che cerchiamo invece dall'imprenditore che ha la competenza di dominio quando poi l'imprenditore o lui o la sua prima linea nell'ottica di capire quali sono le metriche che vuole migliorare possono essere migliorare le vendite migliorare la marginalità minimizzare gli sprechi e quindi minimizzare i costi e quindi cerchiamo di darci un obiettivo comune nel quale noi siamo coinvolti proprio nella fase anche progettuale questo è secondo noi il miglior modo di dire non solo crediamo nello strumento che portiamo ma ci crediamo talmente tanto che addirittura siamo noi nel gioco quindi abbiamo questo tipo di rapporto e questo crea anche maggiore maggiore fiducia oltre che poi anche proprio riscontrare i risultati che quello che insomma si ambisce sempre quindi in pratica tre fasi formazione consulenza alle aziende progettazione e raggiungimento degli obiettivi assolutamente sì quello ovviamente l'obiettivo determina poi dove quella che la fase progettuale quella che la fase anche di coinvolgimento delle strutture interne lo dico perché troviamo magari delle aziende un po più piccole dove c'è l'imprenditore magari il suo nucleo stretto e poi invece aziende un pochino più strutturate come citavo l'esempio di carrefour dove ci sono proprio delle delle parti di azienda che vengono coinvolte nella parte di innovazione in una battuta veloce sul futuro invece possiamo spoilerare qualcosa allora guarda sì c'è molto che c'è tanto che bolle in pentola sicuramente sul nostro settore che come hai visto e sentito anche nelle ultime nelle ultime notizie italiane insomma sta sta esplodendo quindi assolutamente quello che stiamo cercando di fare è dire che siamo un polo italiano siamo un polo italiano riconosciuto siamo forti sia come azienda ma soprattutto come tessuto diciamo dell'italiano abbiamo coinvolto molte realtà universitarie ad esempio vi cito l'università dell'insubria di varese su cui abbiamo anche delle cattedre siamo col politecnico e stiamo coinvolgendo anche altre aziende nel panorama italiano proprio per fare un polo alternativo o diciamo così che possa essere un riferimento per l'europa e magari diciamo così in contrapposizione buona con l'oltreoceano che è sempre molto forte avanti e così ritorniamo proprio all'inizio di questa intervista un modo nuovo di interpretare il digitale io ringrazio di essere stato con noi mirko puliafitto grazie mille grazie di averci raccontato la realtà digitiamo e noi qui su start up di realtà da raccontare ne abbiamo ancora tante ma tante tante grazie mille grazie mille grazie a tutti